ciao a tutti ragazzi benvenuti o bentornati sul mio canale oggi come ogni settimana ogni fine settimana torna la rubrica del nerd dove andremo a vedere a spulciare un pochino i giocatori che potrebbero uscire il luidi epici il luidi successivo si è parlato moltissimo di owen low e un giocatore e okazaki sono giocatori secondo me che guardando gli ultimi pacchetti potrebbero essere schiupabili con le football hub andremo un pochino a spulciare un po le carte ovviamente non conosciamo i livelli non conosciamo il booster però conosciamo le statistiche di base prima andrà avanti lo sapete quando l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti e lasciate sempre tanti bei like di supporto lo sapete ormai gruppo telegram tutto sotto in descrizione canale twitch tutto sotto in descrizione per venire a vedere in live quando andiamo a smadonnare nel gioco o addirittura spacchettare e poi qualora show past in game consapevole di quello che fate passate tramite il link di instant gaming per poter spulciare un pochino le gift card scontatissime e magari risparmiare visto che nei nostri store non riusciamo praticamente mai a fare quindi detto tutto andiamo a vedere i giocatori sui football hub allora eccoci qua con la carta di di michael owen molto carina a parte dove loro inizia agli 85 quindi ormai anche la strada delineata dagli ovveroli iniziali è alta perché 85 è veramente tanto può fare soltanto la prima punta lo vedete dalla mappetta in basso fa soltanto quello potrebbe all'occorrenza fare anche la seconda punta insegnando i magari sculando qualche programma giunta posizione lo sconsiglio anche perché di passaggio veramente basso è un simil romario è un simile romario il problema anzi la differenza fra i due e che lui opportunista è il brasiliano e rapace d'aria come al solito andiamo a dare 33 livelli di crescita perché è così che ormai ci ha abituato pure con ami quello che gli insegnerei io vediamo come lo va a livellare il football hub in questo caso è già abbastanza equilibrato secondo me secondo me lui potrebbe addirittura avere il boost sulla finalizzazione penso io e non sulla velocità perché comunque è già abbastanza è già abbastanza rapido e mai dire mai visto che anche con le tue hanno fatto la stessa roba quindi noi ci concentriamo su come lo vorrei fare io e in questo caso lui ha tanta accelerazione e tanta accelerazione e un punticino magari glielo possiamo glielo possiamo togliere per recuperare qualcosa che se comunque c'è lo stile gioco della natura e che lo pompa a cannone e qualcosina in più sul dribbling io vorrei dare vi dico la verità e uno di passaggio fa sempre comodo ragazzi fa sempre comodo io lo farei in questo modo se andiamo a vedere l'allenatore che fa 88 questo giocatore fa 102 non contando il booster quello che potrebbe portare a 103 insomma non è proprio non è proprio da scartare ecco magari forza in aria ne ha troppo ne ha troppo non ha senso secondo un giocatore del genere dai tutta sta forza in aria e al nostro punto finiamo finiamo il dribbling e vieni fuori una roba del genere ragazzoni è una bella carta è una bella carta devastante va lanciato in velocità dritto per dritto e bisogna sperare bisogna sperare che comunque sia rapido anche in game perché lo sapete tante volte succede che anche i tuoi venga recuperato mappi vengono da un van dyke di turno un estra di turno e la differenza in velocità nonostante sia evidente il gioco permette questo tipo di cose andando a vedere le abilità dove le faccio mai vedere le abilità sono finalizzazione acrobatica pallonato minato tiro di primo colpo di testa colpo di tacco a giro di istante astuzia esterna giro specie se rigori io penso che se lo dovessi mai avere insegnare comunque doppio tocco insegnare qualche abilità di passaggio visto che fa abbastanza pietà gli metterei passaggi di prima assolutamente per forza di cose gli darei che ancora sto vedendo vediamo se un po di potenziativo tiro di collo non ha senso magari un tiro a scendere e e poi vedete un po voi ragazzi sinceramente la skill e la mettere sempre su sempre veronica magari ci potrebbe stare anche veronica e poi basta questo è questo è michael owen una carta clamorosa anche anche lo dovrebbe avere comunque secondo me 33 livelli di crescita insomma carte che partono sempre da 85 dove l'iniziale questo giocatore uscì l'anno scorso e per me era una gafonata però qualcuno lo utilizzava mi diceva che era davvero molto molto interessante ovviamente punta opportunista se andiamo a vedere anche chi c'è adesso in nei pacchetti c'è scelcenco e penso che non possono neanche essere tanto paragonati e comincia mani basse però andiamo la livellare mettiamo un po come lo costruisce e football hub essendo un giocatore che altro e 75 a tanta accelerazione una tantissima cosa però è una punta centrale perché no non è malvagia io di finalizzazione e penso che lui va il booster sulla finalizzazione gli toglierei qualcosa sul colpo di testa anche se comunque ci sta però intanto recuperiamo dei punti ragazzoni recuperiamo dei punti andiamo a 84 90 d'elevazione tanto poi c'è il booster allenatore signori non è un problema e poi dare sul dribbling perché a me piace un giocatore che sappia bene o male ecco qua bene o male comunque nello stato muoversi bene è una carta che comunque sa fare un po tutto lo fa discretamente bene se andiamo a vedere sempre l'allenatore ragazzi ve lo non vi soffermate più sul boost sulla sulla carta in sé alla statistica perché poi c'è da valutare l'88 del dell'allenatore lo stile gioco allenatore che viene fuori una roba del genere può fare anche la seconda punta all'occorrenza ed è una carta anche lui molto molto interessante ma continua a debutare più completo cevchenko visto che tra l'altro ceva è leggermente più alto e poi è molto più veloce molto più forte del del dribbling molto più forte del controllo palla pecca ceva nel possesso stretto ma secondo me difficilmente si sente questo tipo di cosa lui comunque ha una buona è una buona base perché comunque c'è un buon c'è un buon passaggio non deve dare l'abilità finalizzazione ecco a owen magari gli potremmo insegnare fine edizione acrobatica leader tiro di prima colpo di testa colpo di tacco lancio lungo passaggio di prima tiro al salire controllo di suola e passaggio filtrante chi mettere dominio palle alte perché comunque c'è tanto salto c'è un buon colpo di testa il tiro di più passaggio ma ce li ha io metterei magari il tiro di collo vediamo come sta messa potenza tiro e basso con la potenza di tiro e doppio tocco sempre perché io metterei doppio tocco anche il portiere e poi vedete un po voi per quanto riguarda adesso mi sembra una carta anche lui discretamente interessante poi arriva questo okazaki che è comunque una seconda punta senza palla mi dice comunque football hub già senza palla è un problema perché è questa passiva qua è abbastanza inutile in questo momento il game è un giocatore che anche lui ne va mettere guardate essendo comunque giapponese potrebbe avere addirittura 35 livelli di crescita e non sto scherzando comunque andiamo sempre a dare 33 livelli di crescita tanto sono abituati così ma io no vabbè ragazzi io non credo potrebbe avere anche 34 livelli lo dico io essendo 82 devo iniziale fa 34 livelli di crescita da seconda punta perché comunque vedendo l'equilibrio che serve poi il controllo corpo l'accelerazione velocità il dribbling seconda punta ci potrebbe stare questo è il suo questo è diciamo la build che gli fai football hub e comunque non è malvagia io sinceramente seconda punta la farei così anche perché la velocità massima non è altissima poi l'accelerazione ci sta un buon equilibrio andiamo a mettere lo stile di gioco dell'arrelatore e viene fuori una carta del genere è una buona carta è una buona carta vedendo anche l'aggressività e il comportamento difensivo potrebbe addirittura fare il trequartista visto che tra l'altro rientra anche quel volgimento inizio non è basso di tre stessi come questo giocatore potrebbe ritrovare il cc cambiando un po ovviamente i parametri vista la posizione che gli andremo a mettere però non è brutto ha una pecca importante che è appunto la passiva non da vedere le abilità che ha a disposizione la finalizzazione lo spirito combattivo il tiro di colpo di testa astuzia riserva il russo tornato 2 milioni palle alte intercettazione spirito combattivo per forza che non ce l'ha già ce l'ha quindi intercettazione secondo me tanta roba poi vabbè doppio tocco assolutamente essendo giapponese è strano che non gliela abbiano insegnato già loro e poi vedete un po voi io non è che gli mettere in voltabilità a parte che il suo gioco non lo vorrei mai su mai e niente una carta normale secondo me c'è di meglio anche in questo momento se guardate il pack mila ragazzi penso di avervi detto un po tutto secondo me il pacchetto che uscirà domani penso sia abbastanza schippabile io non lo so c'è gente che ama owen è sicuramente la carta è bellissima l'abbiamo visto abbiamo anche provato a livellare ed è molto interessante il problema di owen è che non sa passare il pallone e questa cosa un po ve lo dico a me sinceramente dà fastidio perché è una prima punta almeno deve avere 70 di passaggio in base perché passaggio raso terra più che altro perché comunque un tocco un passaggio corto verso la seconda punta verso il trequartista ci deve essere è vero che poi gli mettiamo passaggi di prima è la cosa sembra un po sembra un po risolta però fidatevi che non è un passaggio preciso quindi potreste addirittura farlo troppo corto e perdete pallone quindi per dire romano a me piace tantissimo e fortissimo ma quel tipo di statistica lì comunque rimane bassa e non riesco tante volte di utilizzare al top perché so che ha quella mancanza e so che potrebbe non fare quello che io vorrei quindi lo utilizzo poco un po per questo poi per il resto è clamoroso perché a skillare nello stretto sguscia bene questo tipo di gameplay attuale è adatto per giocatori che hanno il bar di centro basso perché sgusciano via e anche con i game marci tante volte sono più precisi rispetto magari a un giocatore più alto che col modi type lento fa fatica a stare in campo insomma io la vedo un po così però aspettiamo vediamo io già adesso se dovesse uscire loro mi sentire di dirvi easy skip non andate a girare in questo pacchetto perché non ha alcun senso Owen è forte però non è un must da avere insomma Sheva e Gullit sono i giocatori che a paragonate questi ultimi sono secondo migliori fatemi sapere cosa ne pensate vi auguro una buona giornata come sempre buon game a tutti ciao ragazzoni